ormai mi sono appassionato alla fotografia di paesaggio da veramente tanti anni questo mi ha dato modo di fotografare in tantissime situazioni tuttavia ho anche compreso che non sempre il contesto nel quale ci troviamo ci dà modo di portare a casa una buona foto anzi la maggior parte delle volte sono situazioni molto molto difficili. In questo video voglio darti sette suggerimenti sette cose che ho imparato nel mio percorso fotografico che mi hanno permesso di migliorare la fotografia di paesaggio e nello specifico andrò a parlare di composizione perché sì lo sappiamo la luce è molto importante nella fotografia ma anche la composizione ha il suo peso rilevante nella fotografia paesaggistica tu non puoi controllare le condizioni atmosferiche il cambiamento del tempo non puoi nemmeno controllare la luce come cambia nell'arco della giornata tuttavia su una cosa tu puoi avere il controllo è la composizione la composizione è quella cosa che combina tutti gli elementi nella situazione che ti trovi a fotografare quindi un determinato cielo in base alle condizioni atmosferiche una determinata luce in base all'ora del giorno ma anche gli elementi che nel tuo tuo paesaggio la roccia in primo piano un fiore un lago un tramonto degli alberi sullo sfondo insomma tutti gli elementi vengono combinati attraverso la composizione ma quindi come si ottiene una buona composizione ovviamente non esistono dei trucchi di magia ma esistono solamente delle nozioni fondamentali e tecniche che io ho applicato nel tempo che mi hanno permesso di migliorare la mia composizione e di conseguenza migliorare anche la mia fotografia di paesaggio il tutto parte da un focus di base che devi assolutamente metterti in testa ovvero che il grosso del lavoro si fa al momento dello scatto e non con i software adobe lightroom capture one eccetera questi software servono per finalizzare la tua idea per concretizzare il tuo lavoro ma non devi ragionare con il faccio la foto tanto poi il sistema a casa con i software e fare tuo questo focus mentale fa tutta la differenza del mondo ciao amici benvenuti in questo nuovo video io sono alessio e prima di cominciare a vedere questi sette punti se ti piace quello che sto facendo i video che realizzo vai qui sotto controlla se sei iscritto iscritto al mio canale la maggior parte di voi infatti guarda i miei video ma non è iscritta il canale e mi darebbe veramente una mano la tua iscrizione adesso metti di comodo comodo che iniziamo con il primo punto il primo punto di sette che vado ad affrontare come cercare una composizione qui ti darò una serie di suggerimenti che potresti adottare il primo che consiglio sempre è quello di dedicare del tempo a visionare il luogo nel quale vai a fotografare quando arrivi in un posto so che c'è la tentazione di tirar fuori subito la macchina fotografica iniziare subito a far foto vedi il tempo che scorre cambia la luce hai questa pressione attorno ma in realtà la cosa migliore che potresti fare è quella dedicare un po di tempo a visionare il luogo per individuare quei posti magari più efficaci rispetto ad altri e se il percorso è molto lungo che non so fare un'escursione fotografica di cinque chilometri ok non è che devi fare tutti i cinque chilometri e poi valutare ma vai per sezioni e quindi arrivi in un posto vedi qualcosa di interessante fermati un attimo analizza e poi tira fuori la macchina fotografica e cerca di fare una buona foto un altro suggerimento è quello di sfruttare lo smartphone in che senso per fare foto no utilizzare lo smartphone come elemento per farti un'idea dell'inquadratura perché è molto utile questa tecnica perché noi abbiamo una visione praticamente molto ampia praticamente a 180 gradi e vediamo anche in tre dimensioni ecco allora che magari utilizzare un supporto esterno uno smartphone potrebbe essere anche la stessa macchina fotografica in realtà per inquadrare quello che hai davanti può farti percepire meglio come sono gli elementi come si compongono l'interno del fotogramma e capire meglio la composizione ed individuare una composizione migliore di altre altro suggerimento è quello di imparare a capire qual è il punto di interesse di una scena che abbiamo davanti sembra più difficile di quello che sembra in realtà quando tu arrivi in un posto in un qualcosa che ti fa scattare quella voglia di prendere la macchina fotografica e fare la foto fermati un attimo e comincia ad analizzare la scena cerca di capire cos'è che ha attirato il tuo interesse una volta che tu riesci ed è veramente un esercizio abbastanza semplice alla fine ma che non si fa una volta che tu riesci a capire qual è il punto di interesse all'interno dell'immagine avrai anche la consapevolezza di come gestire dal punto di vista compositivo con vari suggerimenti che ti darò fra poco per guidare l'osservatore all'interno della scena iniziamo appunto con gli esempi fotografici prendo questa immagine che ho realizzato nel 2023 al lago di Braies l'elemento chiave di questa immagine secondo me sono questo gruppo di alberi anche questo per il loro contrasto tra il verde e il giallo arancio delle cime qui quando stava per subentrare l'inverno in modo deciso e come potevo guidare l'occhio dell'osservatore te lo spiegherò con delle tecniche ma in sostanza qui ho sfruttato la costa del lago per guidare l'occhio dell'osservatore verso punto e punto chiave che è questo gruppo di alberi però poi anche in linea della sorte guarda cosa mi sono trovato qui davanti una sorta di freccia del tutto naturale che porta ovviamente l'occhio a guardare da questa parte e andare a vedere l'altro gruppo di elementi punto di interesse all'interno della nostra scena qui invece un'altra immagine che abbastanza evidente qual è l'elemento principale della scena è il monte qui al centro come ho fatto io per guidare l'occhio dell'osservatore all'interno di questa scena dove l'elemento principale andrebbe un po monopolizzare tutto e si perderebbe tutto il resto ho sfruttato questa strada che tenderà a portare l'occhio dell'osservatore a seguire il percorso e quindi guida l'occhio dell'osservatore all'interno dell'immagine fino all'elemento principale tuttavia qui ci sono anche degli elementi disturbo che non sono molto piacevoli ne parleremo dopo e questa è la medesima scena di prima però ripresa da una prospettiva differente un po più in basso e secondo me funziona meglio dell'altra anche perché non ci sono elementi di disturbo in questa scena come guido l'occhio dell'osservatore all'elemento principale magari tu già ci hai fatto caso l'occhio potrebbe esserti caduto in questa zona qui in questo tornante molto illuminato un elemento naturale dell'uomo una strada che attira l'attenzione però da qui poi si vede anche una bella fascia luminosa che va in contrasto con la zona più scura qui su questo versante della montagna e qui in alto con questa fascia che scorre un po in laterale in diagonale verso l'alto rivediamo nuovamente il percorso a piedi che porta alla montagna l'elemento principale ecco come è stata gestita la composizione qui c'è il cielo che potrebbe essere completamente piatto a se stante ma in realtà con questo cielo pieno di nuvole temporalesche ha il suo perché rende il tutto molto interessante nella composizione finale e per concludere ho questa immagine abbastanza evidente quella è l'elemento principale l'elemento chiave dell'immagine è questo qui il faro del centro e ho sfruttato semplicemente il percorso pedonale che portava il faro che guida con questa prospettiva l'occhio dell'osservatore questa qui sicuramente una uno dei metodi di composizione più semplici ma in realtà c'è qualcosa di più perché lo vedremo dopo ci sono anche delle forme geometriche che portano l'osservatore a guardare il faro al centro come hai potuto notare io alla fine ho cercato di individuare prima qual era l'elemento chiave dell'immagine dopo di che ho costruito tutta la composizione spostandomi cambiando l'altezza della fotocamera tutte cose che vediamo fra poco e questo dovresti imparare a farlo anche tu e l'ultimo suggerimento di questo punto è quello di cercare l'essenzialità di cercare la semplicità che consiste in sostanza nell'eliminare tutto ciò che è superfluo e invece di far mille parole ti porto un esempio pratico che sicuramente aiuta molto di più questa è un'immagine che ho realizzato durante la mia escursione al lago di Sorapi se trovi il video nel mio canale e questa immagine mi piaceva perché c'erano questi raggi del sole che entravano eccetera tuttavia poi l'immagine vista così non mi diceva nulla anzi era molto incasinata tanti elementi di distrazione non c'era nulla di interessante tuttavia ho pensato a ragionare con l'eliminare tutto ciò che è in più infatti se io vado a fare un crop su questa immagine e mi concentro solo su una parte eccola qui guarda quando vado a fare la composizione andiamo a chiudere il ritaglio ed ecco qui il risultato finale questa qui è un'immagine decisamente buona che funziona bene dal punto di vista compositivo e lo so adesso qualcuno potrebbe dirmi eh vabbè però sei partito da un'immagine grande hai ritagliato un pezzettino molto piccolo non è così che si fa la fotografia dovevi utilizzare un teleobiettivo stringere l'inquadratura qui ci sarebbe da fare un discorso perché da quando in quando i fotografi che spesso e quasi sempre diciamo che l'attrezzatura non conta o conta relativamente adesso ci andiamo a impuntare adesso perché lo sai magari che è stato fatto un crop andiamo ad impuntarci su questo aspetto secondo me è un approccio sbagliato dal punto di vista mentale noi dobbiamo guardare il risultato finale se l'attrezzatura me lo permette mi permette di ritagliare un crop con un dettaglio molto valido anche con un crop così esteso non vedo perché sia un problema o non vedo perché deve essere un problema se lo sappiamo dopo questa cosa io non la capisco invece io ritengo che si possa adottare in questo caso va benissimo da un'inquadratura un po' più ampia sono riuscito ad individuare a vedere in qualcosa ritagliando eliminando il superfluo per ottenere una composizione efficace ok ora che abbiamo capito come cercare una composizione come individuare un punto di interesse come posso far sì che la mia composizione risulti più efficace appunto guidando l'osservatore come hai visto prima con i disegnetti come posso guidare l'osservatore all'interno della mia scena e qui entra in gioco il secondo consiglio che ti voglio dare per migliorare l'autocomposizione ovvero sfruttare i pattern che cosa sono i pattern sono degli elementi continuativi che si ripetono nella superficie o apparentemente nella superficie insomma nella scena che piacciono tantissimo ai nostri occhi al nostro cervello viene proprio attirato da queste cose che possono essere sfruttati per appunto guidare l'occhio dell'osservatore verso il punto di interesse e vediamo appunto con delle immagini di esempio come l'ho utilizzata prendo questa immagine qual è il punto di interesse ovviamente è la cascata che troviamo qui in alto a destra è abbastanza evidente ma visto che stiamo parlando di pattern dov'è il pattern in questa scena? lo troviamo qui in questa serie di sassi rocce in primo piano anche accompagnata da queste foglie secche che sono cadute che creano per l'appunto un pattern che danno un'immagine dal punto di vista compositivo molto più bilanciata e portano gli occhi dell'osservatore a visualizzare l'elemento di interesse che è appunto la cascata ma quello che conta è che questo pattern che abbiamo a disposizione serve per l'appunto per equilibrare la composizione in modo che non sia sbilanciata tutta in un unico luogo che è appunto la cascata questo elemento in alto a destra altra immagine dove l'utilizzo del pattern aiuta moltissimo nella composizione qui ho fotografato un bel bosco di fageti e qui con i faggi che si reggono dritti verso il cielo beh sono accompagnati da una superficie con un pattern veramente uniforme che rende il tutto molto più bilanciato anche dal punto di vista del contrasto con i colori e luminosità della scena che sono andato a fotografare quello che dovrai far tu è semplicemente ricordarti nella prossima fotografia di paesaggio che vai a fare di fare attenzione se tra gli elementi che hai a disposizione c'è del pattern se hai un pattern disponibile potresti sfruttarlo per potenziare la tua composizione il terzo consiglio è l'utilizzo delle linee e le forme nella composizione però prima dobbiamo prendere confidenza con un nuovo concetto il concetto di peso visivo in ogni scena che noi andiamo a visualizzare e poi a fotografare gli elementi che entreranno a far parte di questa immagine non hanno tutti lo stesso peso visivo il peso visivo è dato da vari fattori dalla luminosità, dal colore, dalla grandezza e quello che dobbiamo far noi è evitare che l'occhio e l'osservatore cada direttamente nell'elemento col peso visivo maggiore perdendo tutto il resto dell'immagine, del fotogramma quindi dobbiamo giocare un po' di equilibrio e combinare le cose affinché l'occhio e l'osservatore arrivi all'elemento con il peso visivo maggiore però girando all'interno, navigando all'interno della foto e riparto da questa immagine che abbiamo già visto qui è abbastanza semplice capire qual è l'elemento col peso visivo maggiore che è ovviamente il punto di interesse dell'immagine è questa qui, c'è questo faro ma c'è questa luce molto intensa che praticamente dà un peso, attira l'occhio dell'osservatore però come far per ottenere un'immagine bilanciata che viene visualizzata in tutto il fotogramma? qui ho sfruttato ovviamente quello che abbiamo visto prima, le linee guida del percorso qui del pontile che porta al faro, ok tutto bene ma ci sono altri elementi uno è la presenza di questi triangoli ai lati realizzati appunto giocando con l'orizzonte in modo simmetrico da un lato all'altro, questi qui creano un equilibrio e portano e continuano a portare l'occhio dell'osservatore qui al centro e ovviamente il tutto bilanciato con questo bel rettangolo in alto sempre separato all'orizzonte tutto questo aiuta a far confluire l'occhio dell'osservatore all'elemento col peso visivo maggiore che è appunto il faro ma mantenendo bilanciato tutto il resto andiamo a vedere altre immagini in questa immagine l'elemento col peso visivo maggiore è questa qui la Tofana di Roserz, un elemento paesaggistico stupendo anche con questa luce tuttavia ho voluto sfruttare questa possibilità che avevo in quell'occasione ovvero sfruttare questo tronco che crea una sorta di culla o cornice come vuoi chiamarla per racchiudere questo paesaggio molto molto bello qui c'è tutta una zona di spazio negativo ne parleremo più tardi che però ci sta benissimo perché c'è una differenza di luminosità tra la parte alta e la parte più in basso quindi c'è questo distacco che comunque rende il tutto bilanciato per ottenere una buona composizione altra immagine dove è evidente in modo chiaro qual è l'elemento che ha il peso visivo maggiore non sono questi blocchi ma ovviamente l'albero qui in forte contrasto con il cielo perfettamente piatto dietro qui ho voluto giocare con degli elementi geometrici che sono molto apprezzati dalla nostra testa, dal nostro cervello appunto qui ho tre blocchi tra l'altro tre blocchi con tonalità di grigio differenti scuro, medio e chiaro e anche messi a fuoco differenti questa è sfocata quindi la tensione c'è ma non tanta poi qui è abbastanza a fuoco direi decisamente a fuoco e poi c'è l'albero che è il peso visivo maggiore e questa tecnica di composizione e questa scelta che ho fatto rende il tutto un po' più bilanciato perché altrimenti l'occhio sarebbe caduto esclusivamente sull'albero e mi avrebbe fatto perdere tutte le altre parti del fotogramma giocando in questo modo zona più scura in primo piano che attira la tensione ma è sfocata poi scorre e si arriva all'albero e per concludere questa immagine dov'è l'elemento col peso visivo maggiore ovviamente sono le cime queste qui sono le tre cime di Lavaredo al tramonto un effetto molto bello quindi luminosità grandezza dell'elemento riflesso sul lago queste hanno il peso visivo maggiore come far sì che la composizione non venisse monopolizzata da questi elementi sfruttando una cosa molto interessante il riflesso che crea delle forme le forme sono molto apprezzate dal nostro cervello tant'è che qui abbiamo un triangolo eccolo qui questo qui è il primo e qui abbiamo il secondo triangolo dato appunto dal riflesso degli elementi degli alberi sul lago che si riflette perfetto in modo identico al triangolo che viene creato appunto con le due cime quindi ho giocato con queste forme geometriche all'interno della composizione poi cade più o meno sui terzi quindi ci siamo quasi anche con la regola base che ci viene sempre insegnata e sono andato a creare una composizione piuttosto equilibrata in questa immagine sono abbastanza sicuro che alcuni di voi prenderanno consapevolezza di una cosa sulla quale non avevano focalizzato bene il concetto e parlo di quelle situazioni dove tu ti trovi a fotografare un paesaggio che è stupendo bellissimo ci fai la foto la guardi o la guardi a casa nel computer e non rende non ti porta le stesse emozioni perché succede questo molto semplice perché quando tu sei lì nel contesto reale hai la visione dell'occhio umano che è tridimensionale e in più se ti sposti all'interno della scena il nostro cervello si fa anche una mappa tridimensionale di tutto il contesto nel quale stai fotografando quindi hai in sostanza una visione stupenda dal punto di vista dell'occhio umano però la fotocamera fotografa in due dimensioni quindi non riesce a trasmettere quella cosa in più è relegata a un spazio molto limitato al frame al fotogramma specifico quindi come si fa a risolvere questa problematica è il quarto consiglio che ti vado a dare ovvero come trasformare le tue immagini in tridimensionali con immagine bidimensionale non si fa utilizzo di ottiche strane ma semplicemente andremo a sfruttare se ce n'è la possibilità di tanti elementi che la natura ci offre ci mette a disposizione per appunto dare tridimensionalità all'immagine vediamo ancora una volta con degli esempi pratici uno dei primi elementi che puoi sfruttare nelle tue immagini per dare un senso di tridimensionalità è la foschia in questa immagine che ho realizzato puoi vedere come la foschia va praticamente a creare degli strati a dare un senso di profondità all'immagine sui monti più distanti la foschia è più stratificata e quindi è più bianca mentre più ci si avvicina più gli elementi risultano scuri e quindi visibili e dettagliati in più qui ci si è messo anche il sole che sorgendo ed entrando nella vallata va ad enfatizzare ancora di più questo aspetto e l'osservatore per l'appunto percepisce una sorta di distanza tra gli elementi in primo piano e quelli sullo sfondo anche in questa seconda immagine ho sfruttato la foschia per dare un senso di tridimensionalità agli elementi qui sullo sfondo tuttavia c'è una cosa in più c'è un altro elemento che mi dà una mano che è la luce la luce che sta appunto sorgendo dalla parte sinistra del paesaggio e va a colpire questa scena mi va ad enfatizzare la texture di questo piano che ho davanti la texture è in sostanza la superficie e infatti qui vedo dettagliatamente come è composta la superficie e ci vedo tutta una serie di ombre date appunto dalla luce radente che arriva dalla sinistra e dentro all'interno del paesaggio che sto inquadrando guardando qui la montagna alla mia destra vedo ancora una volta degli elementi molto luminosi qui sopra qui a lato che vanno in contrasto con la parte in ombra e anche questi aiutano a far percepire la tridimensionalità non è un caso che quando magari andiamo a fare delle illustrazioni delle vignette disegnando appunto andiamo a creare questo effetto luminoso ombra per dare un senso di tridimensionalità e visto che si parla di luce non posso non tirare in causa questa immagine che è il risultato anche di un processo di editing che puoi trovare in un video dedicato vai sulle note dell'episodio per trovare il video specifico in questa immagine la luce arrivava da destra ed entrava nella vallata e quindi sono andato ad enfatizzare delle zone per dare un senso di tridimensionalità in particolare questa zona, quest'altra zona che vanno in contrasto con delle zone più in ombra questo versante della montagna e poi ci sono degli spot punti luce che sono questi e questi ovviamente poi anche la montagna principale l'antelao presenta delle zone molto luminose e interessanti che vanno in contrasto con le zone più scure della roccia in sostanza sono andato ad enfatizzare i punti luce attraverso l'editing per dare un senso di tridimensionalità quinto consiglio punto su quale dovresti lavorare è quello di imparare a raccontare una storia o meglio di come la foto dovrebbe trasmettere un qualcosa all'osservatore ho già parlato in altri video di come si può lavorare per raccontare qualcosa con le tue foto qui voglio aggiungere un altro aspetto, un altro tassello e appunto in modo particolare a come la foto trasmette qualcosa all'osservatore e poi adottare ad esempio due approcci uno è quello di creare delle foto simili tra loro quindi delle foto che o per il taglio ma anche per la loro atmosfera per i loro colori, per le loro caratteristiche sono unite tra loro e quindi creano appunto una storia vanno a dare un messaggio viste anche nel complesso oppure c'è un'altra cosa molto interessante da tenere in considerazione ovvero saper gestire i colori ma lo vediamo con un esempio pratico per farti comprendere e capire quanto il colore sia importante nella trasmissione di un messaggio con le foto e quindi quanto sia importante saperlo gestire nel modo corretto ho preso queste due immagini e le ho trasformate in monocromatico con Affinity Photo è una trasformazione in monocromatico che non va ad incidere sulla luminosità ma va solo a togliere la componente colore e vi farò capire quanto è importante invece il colore nelle immagini su questa immagine bellissimo, un bel panorama sulle tre cime di Lavaredo bene, è bello ma perde moltissimo con la componente del colore tolta dalla scena rivediamo l'immagine con la sua componente colore originale ed ecco che cambia tutto vedi come qui il punto di interesse cade in questa zona perché è illuminata da un sole che sta tramontando e irradia questa luce arancio vedi anche qui la superficie di fronte come ha dei contrasti veramente molto belli che prima nella versione monocromatica e come vedi va solo a togliere la componente colore il contrasto rimane quello beh si perde tutto guarda anche qui la zona al centro, le pareti delle tre cime beh perde tutto, perde tutto senza il colore, questo arancio che crea drammaticità anche con il temporale che sta scivolando via o che sta arrivando cambia tutto il colore è un elemento fondamentale su questa immagine prendiamo l'altra foto anche qui vale la stessa cosa cosa capisco da questa foto? è una bella immagine con un bel contrasto capisco che qui c'è del cielo nuvoloso ma non si percepisce la situazione il momento andiamo a ripristinare il colore ed ecco com'è la situazione adesso si si percepisce com'era il momento con un temporale in arrivo con i colori che non sono brillanti dalla luce del sole ma sono un po' fiacchi appunto per colpa di questo temporale e questa luce molto diffusa, molto particolare tutto questo si perdeva nella versione monocromatica certo rimane un'immagine interessante dal punto di vista dei contrasti perché la luminosità è bella però il colore è l'elemento che trasmette un qualcosa in più in pratica noi dobbiamo imparare a vedere la scena che ci troviamo di fronte e a capire se il colore è un componente fondamentale affinché la foto finale riesca a trasmettere un messaggio anche questo significa raccontare una storia trasformare un'immagine in bianco e nero semplicemente perché ci va di farlo non è una valida giustificazione ci sono delle immagini che rendono meglio in bianco e nero perché dobbiamo concentrare l'attenzione sui contrasti luminosi ed altre che invece devono essere realizzate a colori perché il colore è proprio l'elemento che trasmette all'osservatore l'atmosfera del momento sesto consiglio dovresti imparare a utilizzare lo spazio negativo lo spazio negativo è solitamente inteso come un'area completamente vuota o diciamo tra virgolette piatta nella nostra scena nella nostra composizione che si va a contrapporre con un elemento molto più piccolo ma dal peso visivo enorme ti ricordi il concetto di peso visivo come degli elementi possono avere un peso differente non solo in base alle dimensioni ma anche in base al colore, al contrasto, alle caratteristiche luminose bene, per contrastare questi elementi che magari hanno un peso visivo enorme si può sfruttare lo spazio negativo e adesso ti farò vedere come sempre degli esempi pratici di foto che ho realizzato e che possono aiutarti a capire come sono andato a sfruttarlo e come lo sfrutto parecchio nelle mie immagini ed iniziamo con questa immagine molto semplice qual è l'elemento con il peso visivo maggiore? è ovviamente l'albero che sta qui al centro ok? attira subito l'attenzione ma di fatto è un elemento del peso visivo enorme perché va a rompere questo stacco che c'è tra il terreno e il cielo terreno innevato ma con un'esposizione molto più bassa con questo orizzonte praticamente dritto quest'albero che spunta e rompe praticamente la regolarità dell'orizzonte ha un peso visivo enorme e quindi io vado a compensarlo con uno spazio negativo questo cielo che non è completamente piatto ma presenta appunto un suo contenuto delle nuvole che sono in procinto di nevicare è un metodo per contrabilanciare il peso visivo enorme di questo albero che è molto più piccolo però nell'insieme della nostra composizione della nostra inquadratura anche in questa immagine l'utilizzo dello spazio negativo è evidente praticamente l'immagine è spezzata in due con questa zona completamente diciamo bianca, grigia è uno spazio negativo che poi non è completamente piatto perché si vede un qualcosa all'interno si capisce che ci sono delle nuvole e va a controbilanciare cosa? l'elemento principale che è questo qui questi alberi che spuntano all'interno di queste nuvole che stanno entrando all'interno del bosco si stanno muovendo se vai a vederti i video capisci quanto velocemente si spostavano queste nuvole e quindi per controbilanciare questa scena questa zona veramente bella ed interessante è stato necessario sfruttare uno spazio negativo molto importante anche dal punto di vista del contrasto luminoso quindi qui abbiamo delle zone molto molto contrastate scure e qui delle zone molto chiare abbiamo per l'appunto spezzato l'immagine in due giocando con lo spazio negativo e qui entrano in gioco anche i concetti delle forme perché ci sono dei triangoli ben evidenti questa è un'immagine che ho fatto veramente tanti anni fa quali sono gli elementi con il peso visivo maggiore? sono ovviamente gli alberi e secondo me hanno due caratteristiche che ne fanno aumentare così tanto il peso visivo il primo è il fatto che sono decisamente più scuri rispetto alla zona sottostante quindi dal punto di vista del contrasto sono molto più neri rispetto al terreno e quindi balzano subito all'occhio e ovviamente vanno in contrasto con il bianco del cielo ma l'altra caratteristica importante secondo me è il fatto che sono posizionati giusto a metà quindi qui abbiamo una scena che è stata veramente ben divisa dal punto di vista della luminosità questa qui è una scena che veramente sta bene in bianco e nero monocromatico che spezza in due l'immagine con il terreno molto scuro e il cielo ovviamente non sovraesposto ma bianco dove si intravedono delle nuvole e questi elementi gli alberi vanno a spaccare questo orizzonte e per questo motivo diventano e acquisiscono un peso visivo enorme il tutto però risulta estremamente bilanciato perché a fronte di questi alberi che sono piccolini ma dal peso visivo enorme si contrappongono due spazi negativi decisamente importanti e soprattutto in contrasto tra loro che vanno a creare un'immagine alla fine decisamente bilanciata e per concludere questa immagine qual è l'elemento con il peso visivo maggiore qualcuno potrebbe dire che sia questo elemento qui il tronco in primo piano qualcuno potrebbe dire che è la montagna riflessa anche sul lago dal mio punto di vista entrambi gli elementi hanno un peso visivo molto importante infatti si bilanciano molto bene all'interno della scena tuttavia in questo contesto potevo optare per fare un taglio molto stretto e raccogliere e racchiudere questi due elementi nella composizione che si controbilanciavano oppure come ho fatto ora inserire molto spazio negativo qui sul cielo e anche in questa parte minore sottostante con il fondo del lago completamente piatto diciamo che va un po' a controbilanciare il tutto il cielo poi parte un po' più scuro e poi si schiarisce verso l'orizzonte e quindi secondo me funziona questa immagine con questo tipo di composizione una cosa da sapere se ti appassionerai a questa tecnica dell'utilizzo della composizione dello spazio negativo è che man mano che si va ad eliminare tutto quello che non c'entra e si mantiene appunto questa contrapposizione tra un elemento molto ampio appunto uno spazio negativo che va a controbilanciare e un elemento molto più piccolo ma dal peso visivo enorme è che stiamo parlando praticamente di minimalismo fotografico siamo su quella direzione quindi se tra le tue aspirazioni c'è quello anche di ottenere della fotografia minimalista ecco allora che l'utilizzo e lo sfruttamento dello spazio negativo nelle tue immagini potrebbe essere la strada giusta e per concludere l'ultimo consiglio il settimo suggerimento ovvero non indurre in distrazione l'osservatore infatti quando acquisisci delle nozioni di composizione quindi le linee le forme geometriche i pattern eccetera a volte si finisce per esagerare andiamo a realizzare delle composizioni che sono troppo piene e quindi la soluzione consiste anche nell'imparare ad eliminare ciò che non serve ad eliminare ciò che ci distrae oppure non concentrarci troppo su magari delle linee per perderci degli elementi che sono di distrazione sembra una cosa assurda ma ti faccio vedere con degli esempi pratici e prendo questa immagine che avevamo già visto all'inizio di questo percorso in questa immagine l'elemento più importante l'elemento principale il punto di interesse è la montagna ti avevo spiegato che si poteva sfruttare questa strada e poi il percorso di trekking per guidare l'occhio dell'osservatore tra l'altro facendo i pignoli vedi che c'è quest'area molto più scura che scende quindi in sostanza diamo una direzione prima da sinistra verso destra e poi si risale verso la montagna insomma poteva essere una soluzione tuttavia c'è un elemento di disturbo molto importante che è questo qui proprio non ci sta più ancora di questa casetta di questo albergo adesso non so di preciso cosa sia insomma non ci sta bene e ti avevo suggerito un'altra cosa un altro tipo di inquadratura ad esempio l'inquadratura quella un po' più in basso ed infatti l'immagine che avevo realizzato era questa e anche qui ti avevo detto guarda c'è la strada che attira l'attenzione poi questo stacco luminoso e ancora una volta la stradina che guida l'osservatore ma in realtà c'è una terza soluzione che si può adottare e questa è la terza soluzione che potevo adottare certo è il giorno seguente la luce è cambiata però mi interessa farti capire il concetto per eliminare l'elemento di disturbo mi sono allontanato un pochino e ho sfruttato quindi questo bordo della collina nella quale mi trovavo abbassando la prospettiva la macchina fotografica per capirci in modo da nascondere l'elemento di disturbo però lasciare comunque la casetta che diventa un punto di riferimento che fa percepire anche le dimensioni del contesto l'ho già detto in altre occasioni gli elementi umani conosciuti fanno capire anche le dimensioni degli altri elementi all'interno del fotogramma e c'è comunque questa stradina che guida l'occhio dell'osservatore quindi sì elemento in primo piano che potrebbe essere anche inteso come un pattern anche se non è molto interessante però ci sta e dopo tutto il resto c'è la casetta che attira l'attenzione e c'è questo percorso perché comunque parlando di questa casetta anche lei ha un suo peso visivo non enorme come la montagna ma ha un suo peso visivo importante quindi l'occhio cade anche qui e qui abbiamo la stradina che guida attraverso il percorso che mi porta alla montagna quindi vado a riempire il fotogramma per avere una composizione più efficace e siamo arrivati alle fine di questo video amici certo molto lungo molto intenso spero però ti sia stato utile ti abbia dato dei suggerimenti dei consigli per migliorare la tua fotografia lo spero fammelo sapere qui sotto nei commenti come sempre a me non resta che innanzitutto ringraziarti avermi seguito fino a qui ringrazio enormemente i patrons i sostenitori del mio canale che contribuiscono mensilmente con un sostegno economico e darmi l'opportunità di continuare con questo progetto se tu non sei iscritto al canale ti piace quello che faccio ricordati di andare qui sotto mettere un like al video iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto a me non resta che ringraziarvi ancora una volta e salutarvi augurarvi buone feste e noi ci vediamo al prossimo video ciao da Alessio ciao